Ci sono amministrazioni comunali che propongono pacchetti di agevolazioni che comprendono caratteristiche economiche, infrastrutturali, culturali, sociali, demografiche che rappresentano il prodotto da offrire a potenziali investitori. Uno strumento per promuovere il territorio che a Cremona si sta rivelando attrattivo non tanto per le attività locali, quanto per quelle esterne. In primis il polo logistico di San Felice, oltre all'ex Armaguerre, ad altre situazioni come l'ex NUM che vedranno insediarsi attività commerciali di media grandezza, a discapito delle piccole attività locali già in grande sofferenza e poco sostenute in questi ultimi anni così difficili. Quello che corrisponde praticamente a un grosso interesse economico viene in tutti i modi favorito, non tenendo conto neppure di quelle che sono le situazioni e la salvaguardia dell'ambiente. Dall'altra parte tutto quello che invece riguarda la piccola e media attività viene completamente boicottato e dico non semplicemente tralasciato ma boicottato in quanto effettivamente quello che noi assistiamo è questo svuotarsi delle attività del centro e non solo del centro anche della periferia a favore praticamente dei supermercati, a favore di una logistica il cui valore è semplicemente quello di derubare il territorio non solo alla città ma soprattutto alla campagna in un momento in cui la campagna è forse una delle fonti maggiori della nostra ricchezza a livello nazionale. Quello che dunque sembra mancare è una visione della città e del futuro a lungo termine con finalità tese a rivalorizzare le peculiarità non solo del centro ma ora anche delle periferie per non far scomparire definitivamente quelle attività storiche che dovrebbero essere un vero e proprio fiore all'occhiello, non zavorre. Attività spesso tramandate di padre in figlio che nel tempo si sono evolute e adattate ai tempi per non trovare a ogni stagione nuove saracinesche definitivamente abbassate.